si è arrivati alla resa dei conti in consiglio comunale una resa dei conti che rischia di portare alla crisi di governo e alle urne anticipate per i cittadini del capoluogo il sindaco dell'aquila massimo cialenti infatti sul suo profilo facebook ha deciso di mettere in bella mostra tutti gli scheletri dell'armadio che fino a questo momento erano rimasti ben nascosti per quanto riguarda equilibri e poteri a palazzo quanto accaduto ieri dice massimo cialente nella nota e nella riunione di maggioranza mi avviso indica ben altro vedo con crescente stupore prima ancora che preoccupazione continua cialente una instabilità nella maggioranza stupore perché anziché sentire fino in fondo la terribile responsabilità che grava sulle nostre spalle si bada molto alla propria visibilità personale del proprio partito di propri interessi non tutti chiaramente ma alcuni sì ormai il consigliere giuseppe ludovici continua cialente eletto con l'api è uscito dalla maggioranza non ho accettato un ricatto o nomini presidente dell'exomp il dottor tiberi già assessore del centrodestra o io che ho preso i voti passo all'opposizione così dice massimo cialente riguardo un episodio che vede appunto coinvolto il consigliere giuseppe ludovici io continuo cialente gli ho detto di farlo pure il consigliere bernardi sebbene sia il vice capogruppo del pd che dovrebbe essere il partito di riferimento della maggioranza il suo connettivo raramente vota a favore il consigliere ermanno giorgi ormai un po in bilico anche perché si è già dimesso da vice presidente del consiglio lunedì alle 13 viene con lo stato maggiore del suo partito per un chiarimento definitivo potremmo andare a 15 voti di maggioranza e 17 di opposizione il capogruppo del pd l'altra sera ha detto chiaramente che è pronto a mandarmi a casa attaccando durissimamente il suo assessore di stefano il suo segretario di partito albano il suo collega di gruppo palumbo credo che il problema è che lui vorrebbe che si desse un ruolo importante continua cialente nella redazione del nuovo piano regolatore all'ex candidato sindaco del pdl il professor pierluigi propersi ho chiesto questa mattina al segretario del pd di convocare sindaco assessori continua cialente gruppi consigliari oltre che all'attivo degli iscritti gli ho spiegato che soprattutto il pd che vede fibrillare il proprio capogruppo e vice capogruppo mi deve far sapere cosa vuole fare ma me lo deve dire il partito non i consiglieri io ho anche detto come la penso continua cialente se si deve andare avanti a stento in questo non governo fatto di veti incrociati e tutela dei propri disegni sarà giusto ridare la parola ai cittadini propongo pertanto un patto fra gentiluomini decidiamo di ridurre al minimo la fase di commissariamento e torniamo subito alle urne il pd si candida a guidare la regione mostri di saper risolvere i suoi problemi per guidare l'aquila su ludovici non conto conclude il sindaco duramente poiché il vecchio del vecchio più vecchio non credo che possa capire che i tempi di ricattucci sono finiti non è colpa sua è colpa mia per aver accettato la candidatura dovevo saperlo tra poco chiude duro cialente si potrebbe ballare ancora di più si devono rinominare infatti le presidenze dell'azienda sai che storie